Quale futuro si prospetta per la sanità tietina? L'attuale giunta regionale di centrodestra darà seguito ai progetti già avviati dalla precedente amministrazione per arrivare a un DEA di secondo livello funzionale tra Chieti e Pescara superando l'inutile campanilismo che divide le due città e danneggia in primo luogo gli utenti? Se lo domanda il centro-sinistra Chieti che con Silvio Palucci, capogruppo del PD in regione ed ex assessore regionale alla sanità, analizza lo scenario attuale denunciando le criticità e proponendo soluzioni che sblocchino lo stallo della sanità tietina a sei mesi ormai dall'insediamento dell'attuale governo regionale. Intanto il PD di Chieti chiede chiarezza sulla programmazione, DEA funzionale, se sì è la stessissima programmazione del PD e a noi va bene, ma debbono fare chiarezza perché sentiamo da un lato e all'altro dei vari campanili proposte posizioni diverse dell'attuale maggioranza di governo nelle città e in regione. Il secondo punto riguarda l'ospedale che ha delle criticità strutturali, si vuol fare l'ospedale nuovo? No, se la proposta è quella di non fare l'ospedale nuovo però bisogna mettere mano sui corpi C ed F, sul parcheggio e sui tanti temi che gravano oggi sul presidio ospedaliero di Chieti e che affliggono i tanti cittadini che vi si recano. Il terzo punto riguarda la carenza di personale, sono 18 i milioni di euro messi a disposizione, 16 li mise a disposizione l'aggiunta di centro-sinistra, altri due sono stati aggiunti da questa aggiunta regionale, sì ma sono stati spesi questi soldi e la notizia di queste ore che cardiochirurgia, anche cardiochirurgia riduce le prestazioni per mancanza di personale, questi soldi sono utilizzati oppure no? Quarto tema Chieti alta, noi avevamo un progetto di cittadella della salute che è in stato avanzatissimo, chiediamo che quella cittadella della salute vada avanti oppure se è opinione diversa di questa aggiunta regionale, cioè quella di rivedere quella impostazione, di dirci cosa si intende fare. Cinque, le prestazioni chirurgiche a Chieti scendono paurosamente, mancano gli operatori, manca il primario da mesi, vogliamo capire, è merce di scambio elettorale, domanda, vogliamo una risposta, altrimenti nominate immediatamente il nuovo primario e fate risalire le prestazioni chirurgiche a Chieti. Noi siamo favorevoli a fare il nuovo ospedale di Chieti, avevamo l'unico strumento possibile, quello del progetto di finanza, se altri hanno altre idee, altre risorse, se ne hanno trovate altre a Roma, se il governo giallo-verde della Lega e dei 5 Stelle si sono impegnati con la regione per dare altri soldi, siamo pronti a discutere, ma se così non è, non ho capito perché abbandonare una proposta senza averne un'altra.